Un investimento di oltre 227 milioni di euro per realizzare la riconversione produttiva degli stabilimenti di Trieste e Cremona del gruppo Arvedi che punta ad avviare una riqualificazione industriale e ambientale, come promesso, dei territori interessati e salvaguardare le maestranze. L'intervento avviene con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico che, secondo quanto si legge in una nota diramata oggi dallo stesso Mise, concede insieme a Invitalia agevolazioni per 50 milioni di euro attraverso un contratto di sviluppo cofinanziato per 200 mila euro dalla regione Friuli-Venezia-Giulia e di 500 mila dalla regione Lombardia. Mentre proseguono gli abbattimenti nell'area della ex ferriera di Servola, il piano prevede la realizzazione a Trieste di nuove linee di zincatura e verniciatura con un investimento di 86 milioni di euro. Al contratto di sviluppo aderisce anche l'azienda Green Energy for Steel, grazie alla quale sarà costruita con oltre 56 milioni di euro di investimenti una nuova centrale di cogenerazione ad alto rendimento a servizio del sito produttivo di Trieste, con un ciclo combinato a minore impatto ambientale e con maggiore efficienza energetica rispetto alla centrale esistente. Gli investimenti, si legge sempre nella nota, consentono di salvaguardare i lavoratori dei siti di Trieste e Cremona, minimizzando gli effetti della chiusura dell'area a caldo della ferriera di Servola a Trieste.